25 ci guardiamo un po' di gare perché dobbiamo imparare vi ricordo che la stessa va bene sei sotto facci avanti facci avanti facci avanti campana almeno 22 nel prossimo giro iniziano le eliminazioni dai petrice ultima ultima 5-2-4 dai esterno dai avanti vai tranquilla è stanna è stanna non ci cadano oh ragazzi anche a lieve 291 291 deve piegarsi Gioffana è avanzato il primo di suonatore scusate 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 Grazie. 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 Giro 4. Iliminazione al prossimo giro e si elimina ogni giro. Guarda, la guarda. Iliminazione al passaggio. Il Minerlo. Iliminazione al passaggio. Il Giacchino è il povere, si è un tiro prima. Ha eliminato. Uno, sei il Giacchino. E' un buio, 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 buio! E' un buio, buio, buio! E' un buio, buio, buio! E' un buio, buio, buio! Puoi essere il cuore! Grazie